Non ha qualche difficoltà però va via molto bene con una finta il numero 11 si presenta solo davanti al portiere e lo beffa solo 2, 2 a 0 per il Sansevero è stato Monopoli a beversi Paviglianiti e Chiariello con una finta e a raddoppiare per il Sansevero Clamoroso al sedicesimo minuto 2 a 0 per il Sansevero